Ciao! Ciao a tutti! Siamo Alivigno con Ian e niente, andremo a sciare. Finalmente è bello, è caldo, quasi. Ciao vlog! Hola! Ma stavo pensando... Abbiamo qualcosa in mente per oggi? Sì, abbiamo qualcosa in mente. È qualche giorno che sto guardando una cosa assolutamente incredibile. Nessuno l'ha fatto, quindi... Lo dico già o aspettiamo di arrivare su e facciamo tipo effetto sorpresa? Ma qualcosa di piccolo o qualcosa di grande? No, no, è una cosa abbastanza grande. Allora lo guardiamo... Ma cosa hai tirato fuori? L'ora a colazione, perché non l'ho fatta a casa. Ma si può. Vabbè, ci vediamo in alto? Ciao! Ciao! Eccolo! Ciao Renato! Ci stiamo per svelare qual è la cosa che farò oggi. Giriamoci, prego. Qui abbiamo un gonfiabile con un salto e qui c'è un XL con un atterraggio. Esattamente. Ok. Le due cose verranno unite e salterò dal salto dell'airbag all'atterraggio dell'XL. Sembra lungo. Esattamente da lì. E lo è. Da lì. Faccio due giri di riscaldamento. Allora, una bella visuale da qua, tra l'altro. Di gate bag, i miei XL, i miei arrocca. Ma spiegacelo meglio. Come si prepara un salto di questo tipo? Non lo so. Esattamente. Si va molto a feeling. Obla. Ok. Viene adesso la parte più delicata, che è capire più o meno da dove partire. E questo è tutto feeling, tutto cuore. Secondo me, dal dossettino lì, il secondo. Secondo me lì sì. O anche prima. Provo da qua. Stiamo il coso. Qua che si vede, Mauro, siamo fottuti. Jesus! Salto davvero. Com'è? Speed check? Giusto? Potrebbe essere giusto? Sei partito da dove? Sopra? Ok. Quindi. Quindi. È arrivata l'ora. È l'ora di saltare. Dopo un... Dopo un'attenta e scrupolosa verifica del salto del naccole e dell'atterraggio, ho deciso che è il momento di provarlo. Bene. Che scrupolosa sia. Ormai ci siamo. Via noi. È arrivata. Primo trail. Così. Bene. Benissimo. Come è andato il primo try? Bello. Sei andato bello... Bello tonico, eh? Giusto. Direi giusto. Sì? Un po' cortino quasi. Addirittura? A velocità com'era? Eh... Parto un po' più in su, mi sa, adesso. Sì? Però bello. È lungo. Eh no, parto un pochino più in su e l'idea sarebbe quella di fare un trick. Quale trick? Credo che farò un flat 5, ma non adesso. Adesso voglio assicurermi che la velocità sia giusta, poi faccio il trick. Non lo so, voi cosa dite? Lo accettiamo? Vabbè, ce lo diranno dopo che hanno visto il video, quindi vabbè, però, ok. Due run di controllo della velocità e poi trick. Dai, vabbè. Sai che oggi potremmo fare una giornata con tutte le linee creative che si possono fare qua al parco? Adesso che mi viene in mente. Interessante. Mi ho già in mente un'altra. Second try. Ah! C'è un nuovo amico con noi. Sì, stiamo facendo una cosa incredibile. Visto che Fede è da solo e può solo operare o la telecamera o il drone, mandiamo direttamente il drone dove deve stare. Lo lasciamo di fermo e poi con l'aiuto di Renato lo faremo tornare. Ok, bene, grazie. Io adesso vado in giro con due. E allora? Boom! E allora è bello. Come andate? Cazza figata. A parte essere quasi morto post-atterraggio perché ho fatto una linea attraverso secco sul landing e alla nostra sinistra c'è un muro, ci sono andato contro. Però è bello. Puoi fare il trick proprio. Questo è venuto davvero. Ci è atterrato anche nel punto giusto, secondo me, lunghezza giusta, velocità giusta. Ho in mente altre due cose da fare. Quindi andiamo subito a farle. Let's go! Cos'hai combinato? Guarda, guarda, guarda là il secondo salto. Ma adesso dove andiamo? Dove andiamo? Adesso andiamo dal secondo salto verso in qua. Lo vedete. Lo vedete perché l'ho zoomato, raga. La forza dello zoom. Occhio, occhio perché forse lo prova Mason prima di me. No, dai, Mason. Eh sì. Oh, oh, oh. No, no, no. Oh, ok, ok. Halfway across? Halfway across, would you say? Yeah. Fine? Oh, no. Fine, you get it right. Allora, abbiamo un altro sight hit che ci ha fornito Mason. Hi, Mason. Hello. Ok, I'll follow you. Just let him go down. I'm going to the third. Full speed. No! Oh! Nice, 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 nice. There's an airbag transfer going now. You want to try that? I'm done. Yeah. If you don't mind, I could fucking follow you or something. Sure. Yeah, for sure. I'll do it again. If you don't mind, I'll try to go in and get to it again. That's it. Oh Oh Eccoci Eccoci tornati Beh direi che siamo partiti Questa mattina con Ho in mente un trick Esatto e invece Abbiamo fatto una linea intera Bellissimo comunque questa è veramente la cosa Figa del nostro sport Che ci si può divertire Con poco Salta fuori da questa parte Salta di lì salta di là Bellissimo oggi è stato veramente Poi nelle condizioni Primaverili Quindi sono molto soddisfatto Direi che andiamo a mangiarci qualcosa Pastino? Pastino In bianco Questo Questa è la fine del video E niente Grazie per aver seguito Ci vediamo alla prossima